I boschi marginali lungo i torrenti di pianura, i corsi d'acqua di collina o i torrentelli di montagna con presenza di olmi, di frassini o alberi da frutto o anche nelle zone dove il sottobosco sembra un pochino più abbandonato o dove la vegetazione più fitta ha fatto capolino, dove il terreno è sabbioso durante la stagione primaverile e dove magari la presenza appunto di vecchi olmi, frassini o pioppi si possono trovare i funghi del genere Morchella, in particolare a cavallo tra il mese di marzo e il mese di maggio in relazione all'altitudine dove ci troviamo. E così andiamo ad osservare quelli che possono essere alcuni potenziali ambienti dove andare alla ricerca delle ambite spugnole o funghi del genere Morchella, ricordandoci che nei boschi di latifoglia tendenzialmente troveremo delle spugnole che presentano la colorazione della mitra tendente tra il grigio umbrino e il giallo ocraceo. Che cos'è intanto la mitra? È quello che noi chiamiamo volgarmente cappello nei funghi e che nei genere Morchella e in alcuni altri ascomiceti simili costituisce la parte fertile. Nei funghi del genere Morchella come notiamo l'aspetto è quello di una sorta di alveoli ripiegati su se stessi che creano delle piccole cellette delle cavità che gli donano appunto anche il nome popolare di spugnole. Funghi che hanno a livello gastronomico un ottimo interesse e una vasta ricerca e tradizionalità in Italia ed in Europa specie che vanno consumate dopo cottura a temperature superiore a 70 gradi o con comunque l'evaporazione dell'acqua di vegetazione in modo tale da rendere inattive alcune sostanze che possono causare delle intossicazioni. Scopriamo come quando cominciano a mostrarsi nel sottobosco e vediamo che dalla lettiera, dallo strato sabbioso in questo caso di quest'area ripariale del torrente, dallo strato sabbioso fuoriesce unicamente la mitra. Quindi noi non vediamo direttamente lo stipite che adesso muovendo un pochino il terreno riusciamo ad osservare. In questo caso in questa specie che è Morchella vulgaris, una delle specie di Morchella di spugnole dalle colorazioni come abbiamo detto che vanno dal lumbrino grigiastro all'ocracio giallastro della mitra, è una delle specie più diffuse nel nostro territorio proprio in questo tipo di ambientazione. E come vediamo in questo ristretto piccolo areale del sottobosco, quando comincia la fruttificazione di un esemplare, le stesse si mostrano e iniziano a fuoriuscire dal sottobosco quasi in contemporanea. Quindi è una fruttificazione diciamo abbondante di gruppo che può durare a volte anche pochissimi giorni poiché le spugnole sono piuttosto sensibili alle variazioni di umidità nel sottobosco ed anche alle elevate temperature. Solitamente quando? Quando all'inizio della primavera in seguito a qualche giorno umido e piovoso e non troppo freddo si assiste a delle giornate, a delle situazioni nelle quali le temperature aumentano in maniera importante e un dettaglio da osservare è la presenza di fiori, di alberi da frutto di colore biancastro su vari pruni, su vari ciliegi, quindi la fioritura dei ciliegi in genere coincide col periodo della comparsa appunto delle prime spugnole gialle in ambiente di pianura e in ambiente collinare. Qui vediamo ancora questi meravigliosi esemplari della nostra morchella che iniziano a fare capolino da questa parte del sottobosco ripariale dove ci troviamo. Abbiamo visto e abbiamo scoperto quindi uno dei vari ambienti caratteristici dove si possono incontrare i funghi primaverili conosciuti e ricercati con il nome popolare di spugnole o funghi del genere Morchella. In questo caso abbiamo visto in questo video esemplari di Morchella vulgaris in ambiente sabbioso, nei pressi come notiamo il terreno qua è molto sabbioso, anche asciutto perché ci troviamo in una primavera abbastanza asciutta, nei pressi di un'ansa di un torrente dove come abbiamo visto purtroppo la vegetazione è cresciuta in maniera irregolare, gli olmi preesistenti sono per esempio morti, come abbiamo visto anche negli alberi ci sono a malapena le prime gemme delle foglie e spuntano i fiori dai ciliegi ed alcune altre piante da frutto, in questo caso alberi da frutto selvatici. Quello che avete visto in alto è un ciliegio selvatico appunto in fiore. Morchella vulgaris, una delle spugnole più presenti nel territorio della nostra penisola dal sud al nord dell'Italia, commestibile dopo cottura prolungata.